Dopo tre anni di assenza il Festival dell'Oriente torna nella città di Napoli riaprendo i battenti sulla cultura di numerosi paesi, dall'India alla Cina, al Giappone, alla Thailandia, dal Tibet e Filippine. L'evento è stato presentato dall'assessore al turismo Teresa Armato e dal presidente della mostra d'Oltremare Rimo Minopoli. Ci aspettiamo una grande affluenza, gli ingressi saranno tutti quanti riaperti come quello su Piazzale Tecchio Storico e ci aspetta un weekend di diversi appuntamenti come quelli proposti dal calendario della fiera. Un evento che metterà in contatto con la spiritualità, le tradizioni ma anche quelle che sono le tradizioni enogastronomiche di 18 paesi dell'Oriente ed è davvero per noi un grande piacere non soltanto ospitare questa fiera ma anche che venga rilanciata in questa maniera l'identità e la funzione della mostra d'Oltremare che è quella appunto di ente fieristico che deve essere non solo un riferimento per il mezzogiorno ma anche per tutto il Mediterraneo e per tutto il nostro paese. Il percorso immergerà il pubblico nella magia dell'Oriente attraverso un susseguirsi di iniziative. I visitatori potranno anche sperimentare gratuitamente terapie tradizionali e medicina naturale, degustare pietanze della gastronomia orientale e assistere a decine di spettacoli e esibizioni con artisti provenienti da tutto il mondo che si terranno ininterrottamente nei quattro palchi allestiti nei padiglioni.